La nuova Raduno, l'annuale raduno degli amici di Rosela Il bar, come si chiama il bar? Damante al bar civale ci sono tutti Ecco qua, tutta la banda Non vuole ragazze Ecco qua, adesso ognuno dice questo nome Ecco qua Don Matteo, Don Matteo, Don Matteo, Don Matteo Let's go the way to get around It's very hard to jump on now E poi Don Matteo, Don Matteo, Don Matteo Don Matteo, Don Matteo, Don Matteo Ecco qua Let's make the gift of wine and do it rain I like the song, I like the song, I like the song, I like the song I come the song, I like the dance Don Matteo, Don Matteo What's your process? Un anno e un mese, siamo a posto, e a loro pensi che viene a chi ci dobbiamo rivolgere. Amico, tu che sei? Come chiama Rocco? Ehi, ecco qua! Ehi, ecco qua! Ehi, ecco qua! Stai! Non ti riconosco! Ehi, ecco qua! 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 Ate! Ehi, ecco qua! C'è la facoltà! Ma la mia è in giù! Ehi, ecco qua! 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 Oì! Dove? Ehi, ecco qua! Sì, no, non mi scelterò. Veramente. Veramente. Che cosa è che a me? E a quando mi scelterò? Ma a quando mi scelterò? 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 Qual è il tuo strumento preferito? A quando mi scelterò? Sono le tastiere, solo le tastiere. E il preferito sono le tastiere. Guardatello, ora ci si sale con tu e più! Odpito l'è energia, a quando mi scelterò? Casa passante io? Guardatello, sono le handi che i'EOPRI... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.